Allora, buona una prima? Buonissima, per il risultato buonissima, per quello che abbiamo espresso dobbiamo ritenerci più che fortunati, contenti per la fortuna che abbiamo avuto, però in questo momento questa squadra ha bisogno anche di un pizzico di fortuna perché siamo, come abbiamo già detto, in ritardo. È una partita con una squadra che è già squadra da tempo, insomma particolare perché è una squadra che ha fisicità, che ha qualità, che è organizzata, per noi in questo momento era un ostacolo difficile da superare, siamo stati fortunati nella circostanza quando abbiamo sbloccato il risultato, su quello abbiamo fatto la partita, poi magari avremmo avuto troppo dalla sorte quando Calderina avrebbe potuto raddoppiare, invece poi abbiamo preso gol, a quel punto la partita si era fatta veramente difficile, cioè è scappato questo contropiede, abbiamo trovato il secondo gol, poi con un pizzico di fortuna, una squadra che comunque è stata diciamo abbastanza ordinata, ci ha messo il cuore ma non ci abbiamo birra e quindi è venuta fuori una partita di grande sofferenza. Qualche errore forse dalla difesa dove si poteva contare un po' di più? In che senso si poteva? Non ho capito No, nel reparto che sembrava più solito forse oggi è un po' c'è stato qualche mancanza, diciamo un nome errore, distrazione di troppo Sì, sono filtrate tante palle però adesso onestamente io non ho visto male la difesa e che noi a un certo punto della partita avevamo poca qualità nella gestione della palla a centro campo perché comunque Giordano non è un palleggiatore, Criaco è un giocatore adattato che ha fatto molto bene ma è adattato quindi nella gestione della palla che ci avrebbe permesso di far recuperare la difesa e ci avrebbe permesso di trovare anche qualche altra soluzione non siamo stati bravi quindi la gestione della palla ci è mancata completamente e abbiamo sofferto Cosenta è un po' in affanno ma dopo il gol degli avversari è stato capace di reagire e di riprendere in mano la partita? Beh, questo è quando si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno, in quel momento noi eravamo in grande difficoltà abbiamo avuto la fortuna e la bravura anche di beccare questo contropiede che ci ha portato di nuovo in vantaggio però non è che ha saputo reagire è andata così la partita, ci saranno partite dove magari giochi anche meglio e ti vanno male le cose, oggi è andata tutto bene Cosa manca a questa squadra? Niente, manca di sicuro quello che noi sappiamo come organico per completarla e poi manca di sicuro tanto tempo per amalgamare questa squadra per metterla in condizioni fisiche giuste e per dargli anche un aspetto di squadra che è anche una fisionomia quando deve giocare Le emozioni davanti alla prima davanti a questo pubblico che comunque non è stato numerosissimo ma ha riempito un po' gli spazi No ma è chiaro che noi, la squadra, me e tutti, volevamo prima di tutto cercare di vincere questa partita in casa anche se sapevamo delle difficoltà, anche perché abbiamo voglia di dare qualcosa a questa città che ha ritrovato la categoria importante e quindi ci tenevamo moltissimo, ci siamo riusciti pur se con sofferenze però è giusto che stasera il tifoso si vada a fare una birra bello contento invece che magari mettere il dito sulla piaga La sofferenza alla fine si poteva un po' evitare, nel senso che i gol che ci potevano essere sono mancati ma alla fine Calderini, anche Alessandro si è ritrovato in quella posizione Beh sì, però adesso se noi avessimo addirittura fatto più gol ci sarebbe insomma da... È troppo dai, perché adesso... Fa male magari prendere un gol su pallina attiva Sì, quello fa male, però sono stati molto bravi, loro hanno un giocatore che calcia molto bene Ci hanno preso il tempo e ci hanno fatto gol, sono stati pericolosi anche successivamente Abbiamo sofferto un pochino su questi angoli, dove loro l'hanno sempre messi con qualità e noi invece non ce ne abbiamo azzeccato uno